Una buona serata da Bruno La Voce di Roma. Era impossibile non fare questa denuncia perché veramente la magistratura ha esagerato. Perché con il discorso della Sea-Watch, molto probabilmente le nostre forze dell'ordine, la Polizia di Stato che sta per strada, i carabinieri che sono per strada, la Guardia di Finanza che è per strada, si sente offesa e sminuita. Perché il lavoro che fa, sinceramente, dopo quello che è stato fatto, va fatta immediatamente una riforma della giustizia proprio per evitare che tutto ciò accada perché siamo ridicolizzati da tutto quanto l'emisfero europeo. Quindi ragazzi della Polizia di Stato, dei carabinieri, della Guardia di Finanza, non vi abbattete perché noi, io confido in questo governo, è un cambiamento per tutto ciò che voi fate perché rischiate e oggi ne siete vittime di ciò che vi è caduto addosso come un mattone per dirvi ma chi me lo fa fare, rischiare la vita per poi, ecco, mandare a casa quella persona. Una buona serata da Bruno La Voce di Roma. Vi voglio bene a tutti. Ciao, seguitemi.